Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni lunedì, ci vediamo con una nuova analisi... No, no, non ci vediamo con un'analisi gameplay, ragazzi. Oggi un video diverso dal solito, infatti non sentivo la necessità di far vedere necessariamente qualche partita competitiva, visto che grosse novità a livello di gameplay non ne avevo riscontrate, ma credo che sia molto più interessante andare a trattare la tematica appunto che ho intenzione di affrontare. Difatti, ricorderete che più o meno a dicembre avevamo parlato della causa che era stata mossa da alcuni querelanti, una class action addirittura contro EA per quello che era il momentum all'interno di FIFA in generale, non solo FIFA 21. Ebbene, oggi è arrivata quella che è una risposta ufficiale e pare anche definitiva a quella questione. Quindi, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, avete anche probabilmente spoilerato un po' la cosa dal titolo, andiamo a analizzare bene quello che è successo. Quindi, eccoci qua. Ci troviamo su questo bell'articolino di giornale che ci dice FIFA Scripting Law Suite, quindi la class action contro lo script in FIFA, è stata abbandonata dopo che la EA ha fornito virgolette, quindi testuali parole, dettagliate informazioni tecniche e accesso a parlare con i nostri ingegneri. EA che commenta sempre in virgolette, vedete più piccolino, questo è il risultato più giusto. Andiamo ad affrontare l'argomento, perché c'è, secondo me, un po' da chiacchierare. L'articolo che cosa ci dice? Che i querelanti, dietro la class action che era stata operata contro la EA, appunto per la possibilità da parte loro di aggiustare in maniera segreta la difficoltà in ultime i team per far sì che i giocatori andassero a spendere più soldi in pacchetti all'interno del gioco, ha abbandonato quello che è il loro caso. A novembre del 2020, tre californiani hanno appunto affermato che la EA manipolava secretamente il gioco all'interno di una class action, andando a porre come prova quello che è il brevetto sulla tecnologia artificiale, quindi la CPU, noto come Dynamic Difficulty Adjustment, quindi DDA, difficoltà dinamica. Per quanto riguarda l'aggiustamento della difficoltà dinamica, noto più comunemente come script, momentum, eccetera, eccetera, questo non è altro che una tecnologia che in maniera non giusta va a effettivamente porre degli esiti sul risultato delle partite per andare a incoraggiare, insomma, una maggiore spesa in pacchetti. Quindi questo è un po' il contesto per quelli che magari l'altra volta si erano persi il video. Ci spiega effettivamente adesso l'articolo che effettivamente EA ha ammesso di essere la proprietaria di quel brevetto, ma ha anche declinato di utilizzare questo tipo di tecnologia in Ultimate Team. Oggi la EA ha affermato che i querelanti hanno dismesso il loro caso dopo che la compagnia ha condiviso quelle che sono dettagliate informazioni tecniche su FIFA e gli ha dato la possibilità di poter parlare con i loro ingegneri. Questo è quello che è lo statement, quindi diciamo la dichiarazione ufficiale da parte di EA che io vado a leggere direttamente da quello che è appunto il sito di Electronic Arts e ci dice che assicurare che il gioco sia il più giusto per tutti è un qualcosa di assolutamente determinante per EA e abbiamo tentato di essere il più chiaro possibile per quanto riguarda il nostro impegno a far sì che questo vada a riferirsi a quelli che sono tutti i nostri giocatori. Abbiamo già pubblicamente detto che non utilizziamo alcuna forma di script o di DDA o nulla di simile che vada ad aggiustare automaticamente la difficoltà del gameplay in FIFA, in Madden e in LH Ultimate Team Matches quindi anche altri giochi di EA erano sotto accusa, non solo FIFA. La nostra affermazione chiara che già avevamo rilasciata è stata recentemente sfidata in una class action all'interno della quale insomma si diceva che noi andassimo a utilizzare la DDA nelle modalità di Ultimate Team. Oggi però siamo molto orgogliosi di condividere con voi che i querelanti hanno abbandonato il caso abbiamo fornito loro quelle che sono dettagliate informazioni tecniche e accesso ai nostri ingegneri i quali hanno confermato nuovamente i querelanti che non c'è DDA o script nelle modalità Ultimate Team e questo per noi è il giusto risultato. E' ovvio sì che la EA ha come brevetto un brevetto per la DDA questa DDA non è mai stata applicata su FIFA, su Madden o su NHL e non lo sarà mai. Non useremo la DDA per far sì che i giocatori abbiano vantaggi o svantaggi in modalità multiplayer né adesso né in futuro in alcuno dei nostri giochi. EA e FIFA, Madden e NHL Team rimangono ovviamente dedicate a quello che è il Fair Play e potete trovare maggiori informazioni riguardanti la nostra dedication al Fair Play nel Positive Play Charter che diciamo poco ci interessa. Quindi diciamo che EA smentisce tutto. Però già qui io insomma storco un po' il naso perché sì molto bello questa cosa, questa solfa ce la siamo sentita dire già più volte e diciamo che è un comunicato abbastanza unilaterale sotto questo punto di vista mi sarei aspettato anche una sorta di comunicato congiunto dove sì venivano poste quelle che erano le ragioni di EA ma mi aspettavo anche poi insomma un corollario da parte dei querelanti che dicessero sì effettivamente X, Y e Z quindi già questo solita comunicazione unilaterale da parte di EA che insomma mi lascia un pochino storcere il naso. Vabbè questi sono... L'obiettivo di EA ci dice che all'interno di quello che è il brevetto sulla DDA appunto si va effettivamente a dire che bisogna massimizzare quello che è l'engagement di un giocatore all'interno del videogioco durante la sua esperienza, quindi è quello che abbiamo parlato in precedenza, no? Ad esempio ci dice che appunto ci sono alcune non limitati esempi di feature all'interno del videogioco che possono essere modificate e che non possono essere necessariamente individuate dall'utente che possono includere ad esempio velocità in più all'interno di un personaggio del videogioco la precisione maggiorata all'interno di un personaggio del videogioco aumentare o diminuire l'altezza che un personaggio può saltare eccetera 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 quindi questo è attenzione un qualcosa che all'interno del brevetto di EA è assolutamente inserito santo cielo se hai inserito per quale motivo io dovrei credere che tu mi dici no non c'è per quale motivo così come uno sciocco io dovrei prendere questa notizia e darla per vera vabbè il brevetto ci dice appunto che è stato approvato nel 2018 ma in realtà per alcuni anni i giocatori di FIFA hanno sospettato che insomma il gioco andasse a imbrogliare si ritiene ancora che insomma nascosto all'interno di FIFA all'interno del codice FIFA si sia questo script segreto che aiuti i giocatori insomma a perdere e renda più difficile quelli che stanno vincendo effettivamente a vincere e la community di FIFA ha sempre chiamato questa cosa come momentum agli inizi del 2017 un utente di Reddit dice diceva di aver trovato una menzione del momentum nel codice di FIFA 17 e questo è insomma uscito all'interno di una serie di FIFA youtuber video che hanno insomma evidenziato la cosa e hanno addirittura cercato di fare una petizione che però è fallita nel 2017 tutto ciò è stato sottoposto a quello che è il FIFA creative director Matt Pryor il quale ci dice che questo è un qualcosa che insomma ci viene chiesto spesso dice Pryor c'è qualche sforza di script eccetera eccetera io vi posso assicurare che non è assolutamente così è semplicemente football quindi calcio cose che succedono nel calcio quindi se al novantesimo si aprono le acque nella nostra difesa è calcio non è Mosè che replica l'episodio biblico Pryor ci dice che FIFA effettivamente cerca di andare a contenere il potenziale dell'errore di un giocatore ma mai insomma lo fa in risultato di una ricerca del momentum quindi è vero sì che un giocatore davanti alla porta può sbagliare il tiro per evitare che sia un qualcosa di efficace 100% come succede nel calcio però è un qualcosa che loro fanno in maniera genuina non attraverso meccanismi ambigui che se stai vincendo ti fanno sbagliare il tiro se stai perdendo ti fanno pareggiare le partite ci dice che c'è un errore in alcuni algoritmi ad esempio per trapping the ball quindi catturare il pallone ma è un qualcosa che è costruito all'interno del gioco ed è misurato su quello che è il livello individuale del gioco assolutamente non significa che oh mio dio 1-0 al novantesimo minuto diamo a questo ragazzo la possibilità di avere un maggiore errore è un qualcosa di molto random e individuale e può succedere in ogni minuto ed è parte della bellezza dello sport la bellezza di prendere gol al novantesimo al centocinquesimo al centoventesimo al quarantacinquesimo sul kickoff la bellezza grazie Prior la bellezza di questo sport può essere frustrante alle volte ma è la natura del calcio vabbè sono un tifoso del Manchester City l'ultima partita del Manchester City che ho guardato avevamo l'80% di possesso palla il boro stava semplicemente difendendo eccetera eccetera primo tiro della partita gol per me è frustrante ma insomma all'interno di FIFA se fosse stato FIFA avrei detto script ma in realtà questa è la realtà ci sono degli errori nel calcio ed questo fa sì che il calcio sia il calcio insomma se tutto fosse predittabile uniforme insomma perderesti quell'anima del calcio quindi se io arrivo davanti alla porta con R9 che costa 10 fottuti milioni l'anima del calcio per perdere per non perdere l'anima del calcio permettiamo a R9 di tirare la palla fuori per conservare quell'anima del calcio l'anima noi rappresentiamo il vero mondo dello sport e tu insomma puoi andare a effettivamente riscontrare quello che è la perfetta somiglianza del videogioco con il gioco vero quindi alla fine di tutta la fiera quindi FIFA sta imbrogliando no assolutamente FIFA non sta imbrogliando può sembrare alle volte che sia così ma è una scusa se vinci è abilità tua se perdi sei scarso e mi verrebbe da chiudere il video così lapidario però insomma piuttosto che chiudere il video ci tenevo un attimino comunque a evidenziare come ancora una volta sia stato un qualcosa di assolutamente unilaterale quindi non c'è un comunicato da parte dei querelanti solo la EA che dice le solite cose per l'ottocentesima volta quindi molto molto perplesso fatemi sapere voi che ne pensate ragazzi ci tengo tantissimi commenti lasciate un like seguitemi sulla piattaforma viola in descrizione trovate le info per tutte le live giornaliere io vi auguro una buona giornata un saluto a Riberoski ciao raga